Rossini TV torna ad accendere le sue telecamere sulle segnalazioni di voi telespettatori. Telecamere che oggi si accendono su una delle problematiche della zona mare di Pesaro, quella degli alberghi abbandonati e dismessi da anni, che sono fonti di degrado e di incuria. In particolare oggi ci troviamo nella zona ponente di Viale Trieste, dove sorge l'hotel Garden, otto piani di albergo in ponente all'angolo tra Viale Trieste e Viale Rovereto. Un albergo che presenta diverse problematiche. Innanzitutto quella del decoro non contribuisce certo a un bel vedere di questa zona, ma poi ci sono altri problemi che ci sottolineano i residenti, ad esempio, della palazzina di Viale Rovereto 34, che oggi ci ha ospitato, per segnalare alcune problematiche. Innanzitutto quella dell'incuria, della sporcizia che si accumula in questa zona abbandonata, ma poi anche quello dei cedimenti strutturali. Qui siamo in una zona particolarmente esposta al vento e non sono nuovi i cedimenti di piastrelle, degrado che si traduce anche nella presenza di ratti e di zanzare nel periodo estivo, ma anche è un luogo abbandonato che spesso si presta anche ad una situazione in cui tendono a intrufolarsi persone non ben identificate, come ci spiegano questi residenti. Vediamo della gente a basi gare che non conosciamo, però dai ragazzi dai 14-15 anni e oltre, anche l'età più avanzata. al mattino presto verso le 6, io mi sono accorta diverse volte a uscire della gente da dentro, due o tre persone, quelli dormono, non so cosa fanno, tanto a quell'ora lì verso le 6 del mattino, non so. Noi abbiamo piacere che Dio la Napolitina, perché gente che passa e dicono madonna quando è tenuto male, che disordine. Siamo qui in Viale Trieste, la gente tanto passa, i turisti si meravigliano. Ma come fate di stare con un albergo così vicino che c'è tanta mondezza? Come si fa? Cadono delle piastrelle, noi abbiamo paura anche io quando tira vento, non passo qui nell'entrata, perché ho paura che mi cade qualcosa in testa, perché cadono e vengono anche di qua, da noi. Non è che quando c'è qui, perché al mare, quando tira vento lo tira. Avete fatto qualche esposto al comune, ai vigili urbani? No, sì, sì, sono venuti i vigili del foco, sono dovuti venire, perché c'era un lastrone in alto, l'hanno dovuto tirar giù e hanno detto che ci pensavano loro a fare la denuncia che era pericoloso, tutto quanto, però non si è visto nessun miglioramento, è rimasto tale e quale. E quello dell'Hotel Garden è una sorta di partenza di una zona di Ponente che presenta diverse situazioni analoghe di luoghi dimenticati, abbandonati a se stessi da anni. Su tutti il complesso di Villa Marina, sia il palazzo bardato dai teli ormai da tempo, i Memore, teli che tra l'altro sono stati riattaccati in tempi recenti, dopo che avevano subito anche il distaccamento che vedeva appunto questa struttura ancora più degradata, al pari della dirimpettaia struttura che era fino a pochi anni fa adibita a centro sportivo.